ciao a tutti e bentornati sul mio canale nel tutorial di oggi vedremo insieme come realizzare questa carinissima libellula per questo progetto io utilizzerò una lana acrilica in due colori e lavorerò con un uncinetto numero 3,5 e poi ci serviranno delle perle una perla grande con un diametro di 12 mm per fare la testa poi ci serviranno tre perle con un diametro di 8 mm e tre perle con un diametro di 6 mm avviamo un anello magico due punti bassi uno due quindici punti alti uno due tre quattro cinque sei dopo aver lavorato i quindici punti alti terminiamo con due punti bassi uno due e tagliamo il filo stringiamo l'anello e prepariamo quattro ali uguali un 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.